Siamo a luglio e le scuole stanno ormai chiudendo ma c'è lo stesso molta carne al fuoco. Intanto c'è la questione del concorso per dirigenti scolastici che sta tenendo con il fiato sospeso non solo i candidati ricorrenti ma anche coloro che hanno superato le prove e che sarebbero costretti a ripeterle se il Consiglio di Stato dovesse confermare la sentenza del Tar Lazio. E poi c'è ancora in sospeso la promessa del Ministro di dare avvio ai pass e a un concorso straordinario per chi ha maturato 36 mesi di servizio. A fine aprile pareva che l'operazione si potesse fare in poche settimane ma il tempo è passato e non si capisce ancora in che modo il Governo potrà garantire che a settembre tutto funzioni più o meno regolarmente. D'altra parte su questo punto non tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle sono concordi e anche per questo i tempi si stanno allungando. Ma il problema più serio anche per le sue ripercussioni politiche è certamente quello della regionalizzazione, cioè dell'autonomia differenziata. Pur essendo stato inserito nel contratto di governo il tema è oggetto da mesi di profonde divergenze in seno alla maggioranza giallo-verde. La Lega sembra intenzionata a chiudere in fretta su questo punto mentre il Movimento 5 Stelle sta prendendo tempo. Lo scontro è proprio sulle prerogative delle regioni in materia scolastica. Veneto e Lombardia premono per poter avere mano libera sulle assunzioni e sugli organici e chiedono esplicitamente che il personale della scuola passi alle dipendenze della regione. I sindacati per parte loro ricordano che il 24 aprile il Presidente Conte aveva sottoscritto un accordo ben preciso con cui si garantiva che la scuola sarebbe stata esclusa dai processi di autonomia differenziata. Ad arroventare il clima ci ha pensato nelle ultime ore anche la rivista specializzata Roars che ha pubblicato le ultime bozze delle intese fra governo e le tre regioni coinvolte. Intese che dimostrerebbero come il sistema scolastico nazionale verrebbe profondamente modificato nel caso in cui il progetto andasse avanti. La situazione è in rapida evoluzione e se dovessero esserci novità importanti ne daremo notizia anche con un video straordinario. Nelle prossime ore è attesa anche la decisione del Consiglio di Stato sul concorso per dirigenti e anche di questo vi daremo notizia con un video e con altri articoli. Quindi continuate a seguirci su questo canale e anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it e ricordate che durante il mese di luglio i nostri video andranno in onda nella giornata di mercoledì.